Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati in un nuovo test mod, un test mod spettacoloso, spettacolare, fantastico per console e per pc. Oggi vi porto questo patatissimo fer... sei ferme. Cos'è il ferme? Regia, ricominciamo, ma... Oggi vi porto questo patatissimo Fend Farmer 300 CI. Bellissimo, bellissimo. C'è caduto ieri fra capo e collo durante la moria di mod che ci sta affliggendo come una piaga d'Egitto. Prima di cominciare però, buoni tutti, fermi tutti. Piattaforma viola in descrizione dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere. Se avete Prime potete abbonarvi gratis, aiutarmi e sostenermi. Il mio secondo canale, Robymello81 Extra, dove porto videogiochi passati, presenti, futuri, porto di tutto, vlog, vloghetti, vloghettini. E poi il link per acquistare tutto quello che riguarda Giants, Farming, eccetera, eccetera, dai miei link a filiazione per aiutarmi così a raggiungere la partner oro, che sarebbe un sogno, ragazzi. The dream, the dream of Robbie Mellos is the gold partner. Sentite come parlo bene inglese, quindi mi raccomando. Prima di cominciare un'altra cosa, un laichino. Avete lasciato un laichino al video che è importantissimo, forse è la cosa più importante del mondo, mi raccomando. E adesso cominciamo un po' a spulciare questo piccolo trattorino di casa Fend. Come notate, il trattorino all'interno del package ha pure il suo caricatore frontale, bellissimo, il Fend 3S Slash 60. Io li chiamo così, come li chiama il gioco poi, vabbè. Andiamo a vedere le varie configurazioni di questo trattoretto, che è anche compatibile con la Simpoli C. Quindi, se siete da PC, avrete anche in più le varie opzioni della Simpoli C. Comunque, andiamo a vedere. Innanzitutto cominciamo col caricatore frontale, dove potete cambiare soltanto il colore. Quindi ve lo trovate con gli stessi colori del trattore, perché anche il trattore stesso, ragazzi. Eccolo qua, Fend Farmer 300 CI, cambio manuale più power shift, trattore, potenza, cavalli dai 92 ai 112, 40 km orari su strada. E come già detto prima, iniziamo stavolta da sotto, da contrario, perché come vi ho già detto abbiamo i vari colori. Quindi abbiamo il Fend Classic Green, cioè il verde classico Fend, abbiamo il nero, abbiamo l'arancione comunale e poi abbiamo il Fend Petrol Green, questo verde acqua classico dei Fend, è molto bello. Possiamo cambiare anche i cerchioni e i cerchioni, ragazzi, ce li coloriamo esattamente come ci pare a noi, perché ci sono a disposizione tutti quanti i colori, i multicolor di farming. Cominciamo a vedere la configurazione motore, si parte dai 92 cavalli del Fend Farmer 307 CI, ce la posso fare stamattina, ragazzi. Voi state tranquilli che io ce la posso fare. Si va avanti, scusate stavo facendo i pesi, si va avanti con i 98 cavalli del Farmer 308 CI e poi si arriva ai 112 cavalli del Farmer 309 CI. Quindi, ripetiamo, 307, 308, 309, 92, 98, 112 cavalli. Potete scegliere davanti il vostro pesino, potete scegliere se lo volete standard, se volete i vari pesetti fino a un massimo di 336 kg oppure se volete l'attacco a tre punti, che io preferisco sempre nei trattori. In marca gomme, svariate marche con svariati tipi di pneumatici, quindi stretti, standard, pesi, larghi, larghi più contrappesi, insomma, ne avrete di tutti i tipi e di tutte le marche. Back on legs, ovvero i lampeggianti. Di default il trattore non ha lampeggianti, ma voi potete scegliere se metterne uno a destra, uno a sinistra o destra-sinistra. Poi, carpet, che è il tappeto, ecco, di default il trattore non ha il tappetino, voi invece potete scegliere di mettere il tappetino. Poi, warning sign, sì o no, io li odio, sti cosi non mi piacciono. E poi decals, decals sono gli adesivi davanti, potete scegliere se volete A, B o tutte e due, oppure niente, niente in questo caso. Poi, GPS only visual, esattamente come dice la dicitura. Se vuol dire come dice la dicitura, sì, vabbè, comunque è solo figurativo. È un GPS figurativo che viene montato all'interno della cabina. Warning marking, sono ste pescette dietro, a me non piacciono manco queste. Reflector on wheel hub, cioè questi riflettori, riflettori, come si chiamano, sti fregnetti. Ragazzi, possiamo chiamarli col suo nome? Fregnetti, sti fregnetti che vengono attaccati all'interno dei cerchioni. E poi, alla fine, aggancio caricatore frontale, sì o no, solo, compatibile solo col caricatore suo, quello lì, della Fend. E all'interno del trattoretto, noi possiamo già vedere, se siamo da PC, tutti i vari comandi della Simple. Quindi apriamo la porta, muoviamo lo sterzo, apriamo il finestrino davanti, apriamo le due portiere, accendiamo la lucettina questa, apriamo il finestrino dietro, giriamo il collo come nell'esorcista e apriamo il vetrino quello, il vetrino questo, ecco, come vedete, e anche il tettuccio sopra. Quindi queste sono tutte cosettine che voi, vedete, vi ritrovate con la Simpoli C e andiamo a sentirne il sound, vai, accendiamo. Eh, che spettacolo, oggi facciamo un'operazione leggera, leggera, andiamo ad imballare, a pressare, vi faccio vedere anche l'interno della cabina. Guardate che robetta, che spettacolo. E si va, e si va, ragazzetti, guardate che bellino, guardate che bellino. Certo, è un trattore per le farm medio-piccole, non è certo un trattore dai cavalli immensi, però fa il suo lavoro, è bellino, e tutti gli amanti dei fende devono per forza averlo nelle loro farm. Ma adesso mi stavo a portare dietro la balla io, preso dalle inquadrature, stavo effettuando le inquadrature. Però, raga, tanta roba questo fendino. Io conosco già la vostra domanda, dice, ma... De notte, come si comporta? Ragazzi, de notte è un lampadario, è un lampadario, guardate, prime luci, luci posteriori, e luci aggiuntive. E tac, è un lampadario, no? È un lampadario, è un lampadario. Tac, 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 guardate che roba. È un lampadario, ragazzi, ebbè, ebbè, gran trattorino, amici miei, gran trattorino. Vi faccio vedere pure l'aggancio del caricatore frontale, così da farvi vedere com'è col suo caricatore agganciato. Eccolo qua, eccolo qua, guardate che bellino. Molto patato, eh, molto patato. Eccolo. Questo, invece, è il dirt del trattore, eccolo qua, messo bene, devo dire. Non è un dirt di default, è un dirt messo, come vedete, maggiormente in basso, nella parte che, naturalmente, si sporca di più nella realtà, cioè quella bassa. A interno cabina qualcosettina sul tappetino, ma, insomma, poca robetta. Più, diciamo, è stato messo fuori. Mentre l'usura, invece, è proprio quella standard, cioè, vedete, consumata solo la parte, eh, quella grigia, eh, quella, quella della, della scocca sotto, ma, poca roba sul trattore. Qualcosina sul braccio, come vedete, sul caricatore, sul sollevatore, chiamatelo come vi pare. Poca roba, però, per tutto quanto il resto. Quindi, sì, il dirt mi piace, l'usura, come spesso accade, no. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioiellino, se lo scaricherete, se non lo scaricherete. Voglio sapere tutto. Everything, everything you take. Dong, dong, ding, dong, ding, dong, ding. Ditemi tutto. Lasciate un bel like al video. Io ringrazio tutti voi che siete arrivati fin qui, ma, soprattutto, ringrazio gli amici abbonati. Anima, vita e cuore del canale consentono al canale ancora di sostenersi, nonostante tutto e tutti, e di portare sempre questi contenuti quotidiani. Amici, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!